Eccoci di nuovo in studio, sempre per parlare di carcinoma alla vescica, con il dottor Rossini e il dottor Santaniello e come di consueto nella terza parte abbiamo le domande dei nostri telespettatori. Ecco, inizio subito con il dottor Santaniello. Allora dottore, c'è Giuliana Di Fano che chiede, ci sono esami del sangue specifici per capire in modo sicuro se si ha un carcinoma alla vescica? Rispondiamo a Giuliana Di Fano dicendo che no, purtroppo non esistono esami del sangue specifici per evidenziare un carcinoma alla vescica. Un esame nell'uomo è il PSA per un'eventuale diagnosi precoce per il tumore prostatico, ma questo purtroppo non avviene per il tumore della vescica. Gli unici esami consigliati nel caso che il paziente abbia quei sintomi che dicevamo precedentemente, quindi stranguria, difficoltà minzionali di suria o nella comparsa di sangue nelle urine, uno dei principi è il citologico urinario, cioè un esame banale, estremamente facile da eseguire, è la raccolta di tre campioni di urina in tre giorni successivi, successivi da far valutare al patologo che andrà eventualmente ad analizzare la cellularità contenuta all'interno di questi campioni di urina. Esame anch'esso non sempre molto sensibile, ma non così sensibile, nel senso che riesce ad evidenziare l'80% dei tumori che dicevamo ad alta malignità. Sotto questa percentuale, quindi per i tumori a bassa malignità, è un esame anch'esso, non facilmente diagnostico. Ok, dottor Rossini, abbiamo Tony di Recanati che chiede, ho sentito dire che il fumo è una delle principali cause del carcinoma alla vescica, è vero? Sì, è assolutamente vero. Il fumo di tabacco, il fumo di sigaretta in modo particolare, deve essere considerato come il principale fattore di promozione del tumore vescicale. ma non solo, tutti quanti conosciamo il rischio di tumore polmonare legato al fumo e la stessa cosa avviene purtroppo anche per il tumore vescicale. Il fumo è sicuramente il principale oncogeno conosciuto. Quindi l'importante è che chi fuma smetta quanto prima. Questo vogliamo trasmettere, ecco, questo messaggio. Dottor Santaniello, abbiamo Giovanna Di Fabriano che chiede, l'alimentazione incide sull'insorgere del carcinoma alla vescica? L'abbiamo già detto. Rispondiamo a Giovanna Di Fabriano, no. Non c'è nessuna evidenza al momento scientifica o clinica che dica che un'alimentazione smudata o non particolarmente corretta possa far aumentare l'incidenza del carcinoma alla vescica. Purtroppo per questo tipo di tumore no. Poi, dottor Rossini, abbiamo Cinzia Di Macerata che chiede, un notevole consumo di carne può scatenare l'insorgere di questo tipo di tumore? Allora, la carne in questi giorni è nell'occhio del ciclone per quello che riguarda soprattutto la possibile insorgenza di tumori del colon retto. Nel caso dei tumori dell'urotelio, nel caso dei tumori vescicali, non esiste nessun dato che faccia pensare che il consumo di carne o di carne rossa possa favorire la comparsa di tumori di questo genere. Del tutto recente, ma non c'entra niente con i tumori della vescica, anche se sono comunque tumori dell'apparato urinario, che sembrerebbe che ci sia un'incidenza maggiore di tumori renali in forti consumatori di carne, soprattutto di carne cotta alla brace. Ma è qualche cosa che va assolutamente chiarito, va assolutamente studiato. Secondo me sono dati preliminari che in questo momento non devono allarmare nessuno. Perfetto. Dottor Santaniello, abbiamo Maglio Diosimo che dice ci sono farmaci che essi usati per lungo tempo possono portare al tumore della vescica? C'era al tempo un unico farmaco che veniva utilizzato con effetto analgesico, ormai totalmente abbandonato perché si era visto una sorta di correlazione con un'aumentata incidenza di carcinoma vescicale. È stato da molti anni studiato con il parcedamolo, un farmaco che conosciamo come antipiletico analgesico. Questo farmaco è ormai abbandonato da tempo, quindi no, non esiste il momento, non c'è nessuna correlazione con il carcinoma della vescica. Bene. Dottor Rossini, abbiamo Susanna Diascoli Piceno che chiede una volta asportato il tumore c'è rischio di recidiva? Allora, bisogna un attimo intenderci su cosa si intende per una volta asportato il tumore. Allora, abbiamo detto che una volta asportato il tumore superficiale con una resezione endoscopica, quindi una volta asportato il tumore in modo conservativo, i rischi di recidive ci sono e sono legati essenzialmente al grado di malignità istologica della malattia. Di qui la necessità di effettuare controlli endoscopici, cioè controlli cistoscopici periodici. In linea di massima il consiglio è una prima cistoscopia a tre mesi di tempo dalla resezione endoscopica. In casi particolari si può addirittura fare una seconda resezione a 30-60 giorni dalla prima. Se negativo, secondo controllo a sei mesi. Se negativo, terzo controllo a nove mesi. Se ancora negativo, controlli annuali per almeno cinque anni. Nel caso di tumore infiltrante trattato quindi in modo demolitivo, abbiamo detto sì, i rischi di ricomparsa di malattia ci sono, non sono ovviamente legati alla ricomparsa della malattia nella vescica, ma possono essere legati alla ricomparsa di lesione a distanza. Quindi dottore, dopo cinque anni un paziente può stare tranquillo? Allora, sì, direi che dopo cinque anni sicuramente un paziente può raggiungere un elevatissimo grado di tranquillità, al punto tale che di solito escono dal follow-up periodico. Indubbiamente, se stratificati e paragonati alla popolazione che non ha mai avuto tumore vescicale, esiste un certo maggiore rischio comunque, che comunque è sicuramente trascurabile rispetto al rischio dei primi cinque anni. Perfetto. Dottor Santaniello, abbiamo Ennio Di Pergola che chiede bere poco a lungo andare può favorire l'insorgenza di questo tipo di tumore? No, Ennio, possiamo stare tranquilli. Il bere poco non è correlato ad un aumentato rischio di tumore vescicale. Il bere poco magari è correlato ad un'aumentata incidenza di litia silvinaria, quindi di calcolosi di reni, ma per fortuna il non bere tanto non comporta un aumentato rischio di carcinoma della vescica. Comunque è bene bere, ecco, per non sviluppare calcoli reni. Calcoli reni, certamente sì, per quello sì. Certamente per il tumore della vescica, postulatamente no. Bene. Dottor Rossini, abbiamo Mario di San Severino che chiede i materiali tossici che si respirano negli ambienti di lavoro possono incidere sull'insorgenza di questo tipo di tumore? Il dottor Santaniello precedentemente aveva già parlato di eventuali sostanze cancerogene presenti negli ambienti di lavoro. Da questo punto di vista penso che ci si possa tranquillizzare. I cancerogeni noti nell'ambiente lavorativo erano fondamentalmente i derivati dell'anilina, del benzene e del benzolo. sostanze che sono state bandite dalle lavorazioni industriali ma che sono ancora oggi responsabili delle morti per cancro in vecchie aziende di tipo metallo-meccanico, di tipo chimico, soprattutto nell'Italia settentrionale. Rischi attuali da questo punto di vista non ce ne sono. Altri cancerogeni ambientali non sono conosciuti, non sono dimostrati. Bene, dottor Santaniello, abbiamo Gabriella Di Fermo che chiede disturbi erini possono essere responsabili dell'insorgere del tumore? Disturbio erini in senso lato no. L'unica patologia che si è vista in parte correlabile con il tumore vescicale era una particolare patologia renale definita la nefropatia dei Balcani proprio perché confinata in quella specifica area geografica dove si è visto che c'era appunto questa correlazione con questa malattia che poi era una malattia di carattere medico e non chirurgico e il tumore vescicale. In questo senso mi sentirei di tranquillizzare la signora non c'è correlazione tra malattia renale in senso puro e tumore della vescica. Perfetto, dottore. Poi, dottor Rossini, abbiamo Massimo Di Loreto che chiede il frequente stimolo alla minzione può essere un campanello d'allarme? Allora, io tranquillizzerei il signor Massimo perché? Perché nella stragrande maggioranza dei casi i disturbi minzionali sono legati a problematiche di tipo prostatico nell'uomo o a problematiche di tipo infettivo, tipo cistite nella donna. È però importante da questo punto di vista cercare di analizzare con attenzione i sintomi nel senso che un disturbo caratterizzato da frequenza, bruciore, tracce microscopiche di sangue nell'urina sia nel maschio che nella femmina non può essere etichettato sbrigativamente come legato a un'infezione o legata a un'ipertrofia prostatica. Richiede sicuramente degli accertamenti, accertamenti che sono la citologia urinaria, l'esame citologico delle urine e eventualmente un'ecografia, un'ecografia che può avere un importante valore in grado di scrinare un'eventuale patologia più importante a livello vescicale. Dottor Santaniel, abbiamo Giorgia Di Pesaro che chiede Ho un'infiammazione all'uretra che non mi passa neanche con gli antibiotici. Che posso fare? Probabilmente l'infiammazione all'uretra è molto spesso riconducibile ad un problema di carattere batterico, quindi farei una valutazione intanto per controllare se c'è una presenza di batteri, al di là dei batteri o dei germi comuni che uno va normalmente a cercare o a verificare la loro presenza. E poi farei probabilmente uno studio urodinamico, perché molto spesso questi fastidi riconducibili al canale che conduce l'urina al di fuori del corpo, quindi l'uretra appunto, sono invece riconducibili ad un problema chiamato di detrusore iperattivo, quindi un problema riconducibile invece alla vescica e non proprio all'uretra. Quindi studierei meglio il discorso presenza di batteri all'interno dell'uretra con dei tamponi super selettivi e nonché uno studio urodinamico per la comprenza vescicale e per l'etrusore. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, il dottor Leonardo Rossini ed il dottor Francesco Santaniello per essere intervenuti. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento, sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11, mentre il giovedì alle 20.45 sul canale 675. Vi ricordo, come sempre, che potete telefonare per porre le vostre domande al numero 071 75 74 372 oppure inviare un'e-mail a onertv-libero.it e come sempre gli ospiti presenti risponderanno a tutte le vostre domande. Vi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube. Arrivederci alla prossima settimana! Grazie a tutti! Grazie a tutti!